L'Italia sempre più diventa un luogo in cui i paesaggi diventano un elemento importante di valorizzazione. La realizzazione e l'identificazione di tanti siti UNESCO fa sì che oggi ci troviamo in un'area che è diventata il cinquantesimo territorio dell'UNESCO importante e che potrebbe diventare laboratorio per la trasformazione di futuri paesaggi. In riferimento a questa realtà del Piemonte, del Monferrato, delle Langhe e dell'Aroiero, c'è il lavoro, il lavoro di generazioni, di contadini, di agricoltori, di viticoltori che hanno prodotto un paesaggio singolare, unico, con un'identità storica particolarmente significativa. C'è calamandra, mi piace. Il ruolo di un amministratore, un buon amministratore, credo sia quello di accompagnare il territorio che amministra, i cittadini che abitano questo territorio a far sì che questo territorio migliori diventi sempre più affascinante da accoglierti. Penso che è importante non solo a livello estetico, sino a livello funzionale del colore. Il colore ha una poetica per sé. Allora, se noi lavoriamo con la stessa poetica, non può che favorire il contesto in cui abitiamo. Quanto sei disposto a condividere le tue idee come artista? È un gesto in qualche modo tuo o eventualmente anche le persone in qualche modo potranno interagire rispetto a questa tua idea, a questo tuo essere artistico? Allora, non c'è un autore unico, sino tutti siamo autori, i creatori di qualche cosa. Tutti. Allora, qui bisogna solo assumere la tua posizione in quanto a quello che tu vuoi fare in quel posto lì. Perché il lavoro c'è per tutti. Ognuno ha la sua posizione sociale dentro della società. La mia posizione è quella di condividere e partecipare assieme. Può essere utile far vedere che si può copiare bene, cioè copiare le esperienze altrui. Quindi forse anche quello serve per questo luogo, per far capire anche in modo sereno che non è che gli si impone un qualcosa, ma gli si propone. E poi non è che devono cambiare la vita dall'oggi al domani, ma la possono trasformare, che è ben diverso. Vuol dire che devi comunque coinvolgere fino dalle prime fasi della progettazione la gente del luogo, ma fino a partire anche dai ragazzini delle scuole, che sono poi i futuri fruitori degli spazi pubblici e che se si sentono coinvolti e se sentono loro lo spazio pubblico, ah, lo usano, lo fruiscono e non lo vandalizzano domani, perché è uno dei grossi problemi che c'è, ad esempio, magari non da questa parte, ma nelle grandi città. Quindi se invece una progettazione partecipata dal basso, che vuol dire che coinvolgi i cittadini, gli abitanti, i ragazzi delle scuole, anche nelle scelte, nelle fasi di progettazione, li fai sentire loro lo spazio pubblico, la città, e poi, come dice a lui, riesci poi a identificarti in quello che è la tua città. Il nostro impegno è continuare a lavorare in assonanza con l'ambiente naturale che abbiamo accanto. Ecco che questo rapporto tra natura e artificio deve essere sempre di più armonico. Perché non può essere la progettazione avulsa dal contesto e da quelli che sono il luogo in cui si trova. E quindi è importantissimo avere tutta la popolazione dalla tua parte che fin dalle prime fasi della progettazione entra nelle scelte e nel percorso progettuale. Fra cinque anni, se ci ritrovassimo qui intorno a questo tavolo, probabilmente penseremmo cose leggermente diverse o totalmente diverse addirittura da quelle che stiamo pensando adesso. Proprio perché c'è un continuo confronto tra quelle che sono le nostre idee complessive e quelle che sono invece le piccole, ma non piccole per importanza, le piccole idee che si producono nello scorrere del tempo. È molto merito vostro, IAP, se poi è scoccata questa idea, questa scintilla di portare qualcosa di ascoltato e di visto da voi in un vostro convegno a Torino. E speriamo di poter proseguire al di là del 4 luglio. Grazie a tutti.